Gli ultimi quattro anni sono stati più caldi mai registrati con un 2018 che è stato il quarto anno più rovente dopo il 2016, il 2017 e il 2015. È quanto riporta Copernicus, il programma dell'Unione Europea per l'osservazione della Terra, che si occupa del monitoraggio delle condizioni ambientali del nostro pianeta. Il report mostra che la temperatura media degli ultimi cinque anni è stata di 1,1 gradi superiore ai livelli preindustriali e che il 2018 è stato più caldo di 0,4 gradi centigradi rispetto alla media registrata nel trentennio 1981-2010. Le zone più colpite dal surriscaldamento sono il Canada, il settore atlantico dell'Artico e la Russia settentrionale, che hanno registrato temperature nettamente superiori alla media, con conseguenze tragiche anche per lo scioglimento costante dei grandi ghiacciai artici. L'analisi dei dati delle misurazioni satellitari indica inoltre che la concentrazione globale di CO2 nell'atmosfera ha continuato a crescere nel 2018 ed è aumentata di 2,5 parti per milione in un anno.